Quest'anno per la seconda volta consecutiva Trieste è sede del meeting europeo dei World Trade Center. Saranno presenti non solo i colleghi da tutta Europa, ma avremo anche i vertici del World Trade Center di Doha in Qatar, di Mosca e i vertici della World Trade Center Association nel quartiere generale di New York. Dopo il successo dell'edizione dell'anno scorso, ritorna a Trieste il meeting europeo del World Trade Center. Domani i lavori si svolgeranno al Savoia con oltre 40 delegati provenienti da Europa, Stati Uniti e Qatar. Tante le personalità di spicco del mondo economico internazionale che parteciperanno all'evento, compresi i vertici mondiali del World Trade Center oggi rappresentati in conferenza stampa dall'amministratore delegato Scott Ferguson che ha indicato la sede di Trieste quale modello per lo sviluppo del commercio internazionale. Saranno portate alla ribalta delle tematiche che vedono affermata la centralità di Trieste indiscussa in Europa, motivo per cui sono tornati appunto come sede qui da noi. Trieste ha delle caratteristiche importanti legate alla presenza di un comparto scientifico e tecnologico che è collegato a spazi che offrono l'opportunità di investimenti industriali in zona franca supportati da una logistica di eccellenza. Questo modello si chiama Freeway Trieste e attraverso il network cerchiamo di replicarlo e di enfatizzarlo. Freeway Trieste avviata in collaborazione tra Area Science Park e Summer Shipping può dunque diventare un modello da applicare in altre realtà. Nella mattinata di venerdì 26 altro appuntamento importante con l'incontro dei rappresentanti dei World Trade Center con le aziende triestine.